Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in questo video volevo parlare un po' con voi oddio, non ho fatica per questo caso i miei capelli fa caldo l'unica che ha caldo a novembre vabbè, lasciamo verde scusate la mia faccia, mi sono messa un rispetto per essere più presentabile diciamo io questi capelli li odio, ma la grande allora, volevo parlarvi un attimo del mio iphone 7 sugli aggiornamenti, vabbè, in particolare del mio iphone 7 allora sono vari giorni vi l'ho accennato in un video vlog se non sbaglio non lo so sono vari giorni che il mio iphone diciamo due settimane dai e non lo so è impazzito allora non so se si è rotto o cosa ma io forse solo l'ultima cioè nel senso solo la prima caduta che ha avuto e poi basta non è più caduta perché poi ci sono stata tipo molto attenta e quindi non capisco che cosa gli sta succedendo aspettate ok da che ce la fai l'aria ok non capisco che cosa gli sta succedendo allora abbiamo cambiato il modem da poco che sta lì comunque ho finito di sistemare quasi la cameretta quindi poi presto ci sarà il room tour appunto abbiamo cambiato il modem e tipo nel mio iphone non prende bene la connessione nel senso che non è problema di connessione perché mia madre sul telefono oppure sul tablet che ho sul computer prende quindi non è un problema della connessione nel senso che dopo un po' per esempio io non lo uso tanto il telefono sinceramente quando sto a casa e dopo che per esempio lo tengo mezz'ora lì senza accenderlo internet mi si leva e devo rimettere un'altra volta la password oppure mentre sto su instagram su whatsapp questi qua se ne va di colpo e devo aspettare tipo 10 minuti e poi si rimette se no devo rimettere un'altra volta la password e questa cosa non la capisco sinceramente poi l'altra volta davanti a mia madre meno male che c'era anche mia madre grazie che l'hai fatta in quel momento si è spento ho fatto la rotellina e poi si è riacceso che io non capisco il perché poi vabbè poi altri problemi avevo appunto registrato un video con con Lisa sulla black mask e mi si è tolto mi si è eliminato mi sono eliminato alcune foto di di Romeo per chi è nuovo sul canale Romeo è il mio gatto però l'ho messa su iCloud perché appunto così non mettevano la memoria cioè non come si dice scusate per il coso di luce ma sapete che registro con la luce naturale non si riempieva la memoria del telefono quindi l'ho messa su iCloud ma anche lì se ne sono andate a quel paese appunto ho 20 giga di di spazio libero sul telefono e non capisco questo come fa perché sarà un problema di come posso dire che si si impallava perché non c'era spazio sul telefono potevo capirlo ma porca porca ci stanno 20 giga liberi l'ho preso da 32 giga appunto perché sapevo che mi rimanevano le cose libere perché non posso nemmeno scaricare i giochi perché se non se ne va subito internet io di solito i giochi che scarico vanno con internet perciò tutto un cavolo è tutt'uno perché non posso usarli queste cose di internet questa qua ok l'ho ripristinato una volta ho perso quasi tutte le foto perché sono stata deficiente per non passarle sul computer poi l'ho ripristinato un'altra volta passando le foto sul computer e poi ripassandole e non è cambiato niente ho ripristinato due volte le impostazioni del scusate della gomma del del wifi le impostazioni proprio del telefono non cambia niente e io adesso non lo so perché ha un anno questo telefono a novembre ha fatto un anno e quindi ha un anno sì a novembre siamo a novembre i primi di novembre ha fatto un anno quindi non capisco davvero cosa gli stia succedendo ed io ho speso cioè non io mia nonna ha speso 800 euro per un telefono che dopo un anno si blocca io adesso non so che fare consigliatemi voi se c'è qualcuno qui che sa qualcosa di elettronica io ho paura di andare al centro apple o all'apple roma est perché se mi dicono guarda c'è un problema dentro il software cioè dentro il telefono proprio quelli lo devono aprire e costo aprirlo cioè è tutto un cavolo è tutto uno io l'altra volta quando sono andata a dire per per riparare lo schermo che si è rotto qui vicino al tasto home mi hanno detto no ci vuole 400 euro eh cosa 400 euro la metà di culo che l'ho pagato porca puttana mi metto un altro 400 e mi prendo l'iphone 8 cioè ma che intelligenza c'ha questi quindi ho paura sinceramente pur di andare a una clinica clinica iphone che io ho qua vicino casa in piazzetta Torre Angela ho paura perché loro chiedono i soldi e tutto un cavolo e tutt'uno se spendo soldi tanti soldi perché per aprire un iphone cioè servono i soldi costano una cifra quindi pensate per aprirli e e quindi ho paura cioè tutto un cavolo e tutt'uno che li spendo a far per aprirli per aprire il telefono cioè è un punto come ti faccio e il problema è che io qua dentro cioè non so che sta succedendo ecco perché se non escono dei video molto regolari è perché io sì non sto più registrando video non mi sto più anticipando video perché con la scuola è tutto già che riesco a registrare un video per me è tanto perciò quello che registro va giorno per giorno quindi non posso già anticiparmi i video poi quelli che registro me li elimina quindi anche questo quello l'avete visto quello di prima con stefan e ringrazio il signore che me la non me l'abbia eliminato anche se ho aspettato un giorno prima di passarlo sul computer perché ci vuole tanto per editarlo passare cioè copiare il filmato poi passarlo sul computer cioè tutto è tutto dietro una cosa dietro perciò io non lo so aiutatemi voi per favore perché questa è una cosa molto grave ok 800 euro di telefono per poi ritrovarsi con un telefono che non vale la ceppa e non so che fa sinceramente perché non so cosa fare perché pure mio fratello che di solito si ne intende di queste cose cioè ogni volta c'è avuto problemi lui me le ha risolti sul telefono gli ho scritto gli ho detto questa cosa pure lui ma è strano l'ho pure letta su internet che non sei l'unica perché mia cugina che sta in Germania a delle amiche che hanno l'iPhone 7 oppure l'iPhone 7 Plus che gli dà problemi quindi non è il mio solo iPhone è proprio il problema dell'Apple però io penso scusatemi ok che avete fatto uscire l'iPhone 8 e subito pure l'iPhone X quindi vuol dire che adesso l'iPhone 7 è vecchio cioè fatemi capire scusatemi che dopo un anno io mi devo ricomprare l'altra volta il telefono perché voi fate gli aggiornamenti che poi non vadano bene sul telefono quindi lo vadano a impallare perché tutto questo è successo quando è uscito iOS 1 quello là sull'iPhone 8 quando è uscito l'iPhone 8 è uscito il nuovo aggiornamento dell'iPhone che ha cambiato tutta la prospettiva dell'iPhone tutta la schermata questo qua è successo da quando hanno fatto uscire l'iPhone e... sì da quando hanno fatto uscire l'iPhone da quando hanno fatto uscire l'aggiornamento perciò voi mi appello a voi produttori della Apple software software no programmatori del software fate qualcosa perché io non è che ho i soldi per comprarmi un nuovo telefono però per me è indispensabile il telefono perché cioè se io mia madre gli mi ha detto vabbè gli faccio un altro telefono quello da 100 euro ok per me non andrebbe male però io con il telefono faccio i video su YouTube e gli ho detto ma quindi mi serve il telefono buono perché non c'è la macchina la fotocamera la macchina fotografica quindi non posso fare i video con quelli tipo la Canon o altre cose qua quindi gli ho detto ma a me mi serve buono non è perché voglio l'iPhone allora quello perché l'iPhone ha una buona qualità oddio scusate ma gli occhiali mi stanno larghi c'è una buona qualità e io faccio i video con quello perciò voi mi appello a voi ragazzi che mi seguite se conoscete qualcuno che come si dice che sa di queste cose per favore cioè ditemelo cioè ditemelo per favore perché io non so più che fa e me pare che delle volte il Wi-Fi si riprende non si riprende non lo so non si sa che questo succede poi lo collego al computer iTunes non me se non me lo sincronizza così però se ci metto l'iPhone per esempio di mio fratello l'altra volta l'ho fatto ma l'ha sincronizzato quindi non è nemmeno il computer che quello ha 10 anni porca porca e funziona meglio dell'iPhone che ha un anno ok è lento perché è lento vabbè ha 10 anni però no cioè no vi prego vi prego vi scongelo quindi fatemi sapere se voi sapete qualcosa di queste cose tanto sotto vi lascio sempre la mia email le mie social e fatemi sapere appunto perché non so più cosa fare più cosa non fare e basta noi so che alcuni i video sono usciti sempre tutti molto lunghi infatti tipo però vabbè perché io mi dilungo troppo in chiacchiere forse quello è il problema e niente fatemi sapere appunto voi se sapete qualcosa aiutatemi per favore ho questo l'unico modo per chiedere aiuto quindi noi ci vediamo al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto nel senso che vi sia piaciuto il mio sclero sull'iPhone 7 bellissimo oro rosa lasciamo perdere pure dietro come è diventato vi mando un bacione enorme e alla prossima ciao ciao